Il 30 novembre appuntamento a Pineto con Accendiamo il Natale. Il primo evento che viene fatto a Mutignano e la cosa più bella e più importante è che viene fatto nel centro storico di Pineto. È un evento dove alle ore 17 accenderemo queste luci natalizie dove tutti gli abitanti di Mutignano stanno preparando con grande interesse e grande entusiasmo. Ci saranno tantissime attività tra cui l'associazione Mutignano Eventi sta organizzando la casa di Babbo Natale, l'ufficio postale, gli elfi, ci sarà la Summer Smile, ci sarà il coro, i piccoli cori, i cantori di Amadeus con il direttore Mike Aplebaum che dirigerà quest'orchestra, ci saranno la discesa degli elfi dal campanile, mercatini tutta la giornata. Quindi una giornata di festa a Mutignano per presentare poi questo Natale. Quindi un evento interessante, tutto il paese sarà coinvolto. Un evento che apre il ricco cartellone di eventi natalizi previsti a Pineto nei mesi di dicembre e gennaio. Così come abbiamo scommesso durante l'estate su una nuova sinergia, una nuova idea di sistema con le associazioni locali, abbiamo rifatto la stessa cosa a Natale. Crediamo che in un momento di crisi il dovere di un amministratore sia questo, cercare di stimolare la comunità, tutte le sue categorie, nel creare occasioni anche di crescita. E questa sarà un'occasione di crescita dal punto di vista culturale, dello svago ed economico per le tante attività, perché molte saranno le attività, non le svelo adesso perché Mutignano in occasione dell'evento Accendiamo in Natale verrà presentato l'intero calendario.